Dental City Siamo tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Volpini e il dottor Romagnoli come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Iniziamo da lei, dottor Volpini, abbiamo Jonathan Biancona che chiede La riabilitazione respiratoria di un adolescente con asma bronchiale dipende da una regolare attività fisica? Caro Jonathan, sì. Dipende da una regolare attività fisica, anzi, forse l'attività fisica è la manovra di fisioterapia respiratoria più efficace e più utile nel bambino asmatico, dove effettivamente è molto più difficile arrivare a fare misure di fisioterapia respiratoria che implichino l'utilizzo di device. Quindi io penso che veramente l'attività fisica, qualunque sia, diventi parte integrante del processo di trattamento e di controllo di una malattia così importante, così potenzialmente limitante per il bambino asmatico. Anche dal punto di vista della socialità, perché fare attività fisica significa stare in mezzo ad altre persone e quindi va in qualche modo anche a combattere quella condizione di isolamento in cui a volte si vengono a trovare i bambini che soffrono di malattie croniche, come può essere l'asma bronchiale. Bene. Poi abbiamo Claudio Di Marotta che chiede, nel caso di patologie neuromuscolari, quali sono le figure di riferimento per poter affrontare una riabilitazione respiratoria adeguata? Le malattie neuromuscolari, come dicevamo anche nel corso della trasmissione, rappresentano un po' l'emblema di quel corteo di condizioni che si giovano in maniera significativa della fisioterapia respiratoria. E quindi un bambino che purtroppo abbia contratto o soffra di una malattia neuromuscolare, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio, non può non avere come riferimento un fisioterapista respiratorio o comunque un centro in grado di preoccuparsi a 360 gradi della sua condizione, compreso appunto l'aspetto respiratorio. Quindi le figure di riferimento per un bambino con queste problematiche, chiaramente al dirà del neurologo, neuropsichiatra infantile che forse tiene un po' le fila di quella che è la malattia di base, devono inserirsi figure come appunto il pneumologo pediatra, come il fisioterapista respiratorio, che è sostanzialmente il braccio destro e spesso anche il sinistro del pneumologo pediatra. E di conseguenza forse più di altre condizioni la malattia neuromuscolare è quella che si giova di un team multidisciplinare, questo è un termine che spesso viene utilizzato e che va ad indicare sostanzialmente una serie di figure che ruotano attorno al bambino, che rappresenta il fulcro della nostra attività, e che cercano tra di loro non solo di comunicare ma di integrarsi per conferire, per garantire a questo bambino il miglior stato di salute possibile. Certo. Dottor Romagnoli, abbiamo Paola di San Severino che chiede, nel caso della fibrosi cistica è consigliabile l'uso dell'ossigenoterapia? Ok, domanda molto interessante, grazie Paola. Allora, partirei col dire che l'ossigeno è un farmaco a tutti gli effetti, quindi va utilizzato quando indicato. Nel caso della fibrosi cistica sicuramente è meritevole l'utilizzo ma in determinate circostanze. Vista la particolarità della situazione legata alla fibrosi cistica, la prima cosa che si fa, soprattutto in quest'ultima è cambiato l'atteggiamento terapeutico verso la fibrosi cistica, si fa un atteggiamento, ritorniamo a dire, proattivo, si cominciano presto le manovre di fisioterapia e a volte anche di ventilazione polmonare. L'ossigeno si tende a dare, se necessario, di fronte a valori di saturimetria ridotti, che tradotto cosa vuol dire? Nel momento in cui ci sia una funzionalità polmonare tale per cui l'ossigeno nel sangue non è ai livelli che desideriamo ottimali e desiderabili, si supplementa l'area che respiriamo con l'ossigeno per avere appunto valori nel sangue ottimali. Abbiamo Camilla Di Fermo che chiede, nella discinesia ciliare primaria qual è il tipo di riabilitazione respiratoria più adatto? Allora, anche questa domanda molto interessante, nella discinesia ciliare abbiamo diversi tipi di fisioterapia che possiamo prendere in considerazione e sicuramente quello che fa per la maggiore è la fisioterapia che mobilizza le secrezioni dalle basse vie aere, direi. Quindi quella che è la peptherapia, che può essere pepmasco, terapep, diversi device che comunque vanno ad agire proprio su quelle che sono le piccole vie, le più profonde, che sono quelle che sono più frequentemente interessate dalla stasi delle secrezioni secondarie all'alterato movimento battito ciliare e che più frequentemente purtroppo possono essere serie di bronchiectasie, quindi questa complicanza tipica della discinesia ciliare che può aggravare il stagno delle secrezioni. Poi abbiamo Anna Di Macerata che dice, mio figlio è affetto da una malattia oncoematologica, è consigliabile l'attività fisica per migliorare la respirazione? Anche qui la risposta è affermativa, sì, l'attività fisica, se ovviamente compatibile con le condizioni di base legate alla patologia oncoematologica, tendenzialmente è sempre una cosa favorevole perché aiuta appunto la rispansione polmonare e l'ossigenazione tissutale. È da vedere ovviamente che tipo di patologia oncoematologica o che purtroppo eventuali tipo di complicanze possono essere legate soprattutto ai trattamenti magari che sono stati resi necessari, medici, chemioterapici magari o chirurgici in base al tipo di patologia. Però in linea di massima, sì, è comunque benefica. Poi, dottor Volpini, abbiamo Michela Di Grottamare che dice, mio bimbo è affetto da asma bronchiale, nel suo caso cosa si intende per riabilitazione respiratoria e a chi mi devo rivolgere? L'asma la va per la maggiore. Eh sì, purtroppo molti bambini soffrono di asma. È così che tutt'oggi noi stimiamo l'asma intorno al 10% dei bambini, quindi quasi uno su dieci. Ecco perché gran parte delle domande e dell'interesse è giustamente rivolto nei confronti di questa malattia. E come dicevamo prima, la riabilitazione respiratoria nell'asma è più una riabilitazione comportamentale che è articolata su manovre di fisioterapia respiratoria o su trattamenti che prevedono l'utilizzo di macchine. Quindi difficilmente o è quasi praticamente impossibile vedere bambini asmatici che facciano la macchina della tosse piuttosto che la pep mask, perché l'asma è un disturbo che per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi si può gestire con un corretto stile di vita, con attività sportiva adeguata, chiaramente assieme ai farmaci che normalmente utilizziamo per il controllo dell'asma. Quindi io non andrei a pensare a niente di più che appunto manovre comportamentali legate prevalentemente, dico prevalentemente, all'attività sportiva e eventualmente giustamente anche come dicevamo prima a un corretto regime alimentare, che anche quello fa parte di un momento importante di riabilitazione. Poi abbiamo Gianni di Fossombrone che chiede, l'attività fisica nel caso di asma bronchiale è consigliata oppure no? Sì, come abbiamo detto durante la trasmissione è assolutamente consigliata. Non ci sono attualmente dati che dimostrino che un bambino asmatico non debba fare attività fisica e quindi di conseguenza noi non solo la consigliamo ma la proponiamo spesso, la proponiamo spesso anche al termine delle nostre visite, nell'ambito dei rifesti spesso e volentieri scriviamo soprattutto dove c'è un problema anche legato a alterazioni soprattutto nell'alimentazione che si consiglia attività fisica in maniera graduale, incrementale e c'è addirittura tutta una serie di dati che ci spiegano bene come l'attività fisica nell'asmatico appunto debba essere seguita seguendo alcuni tipi di comportamenti che migliorino e che limitino la possibilità che l'attività fisica stessa possa portare qualche fastidio al bambino. Proprio per dire una cosa molto semplice, qualche volta nell'asmatico si consiglia il preriscaldamento che cosa significa? Non partire 0-100 perché l'apparato respiratorio dell'asmatico è un apparato respiratorio che ha bisogno di un adattamento e quindi spesso e volentieri si consiglia di cominciare lentamente gradualmente qualche minuta prima per poi fare un'attività assolutamente identica se non addirittura spesso migliore rispetto a chi non soffre d'asma, quindi attività fisica sì, fatta bene, fatta regolarmente e soprattutto in una malattia che abbia raggiunto un buon controllo grazie anche al supporto delle figure di riferimento. Certo, poi dottor Romagnoli abbiamo Daniela Di Pesaro che dice Mio figlio di 12 anni ha la bronchiectasia non fibrosicistica e chiede che tipo di riabilitazione respiratoria mi consiglia? Grazie, domanda interessante, molto. Nel caso di bronchiectasia, l'abbiamo accennato prima intanto la bronchiectasia, spieghiamo cos'è, è una dilatazione parafisiologica, non fisiologica di quelli che sono i tubicini che portavano l'aria alle bollicine agli alveoli. Questa dilatazione secondaria a diverse situazioni può essere, sostanzialmente crea un ristagno di secrezioni come abbiamo detto, il ristagno di secrezioni tende all'infezione e quindi dobbiamo intervenire quanto più possibile con la mobilizzazione di queste secrezioni. Nel caso di bronchiectasia non FC, quindi non è la fibrosicistica la causa ma è o la desistagno di secrezione o altre cause più o meno identificate, possono essere anche poste infettive. Di nuovo, un po' come la desistagno di secrezione, sicuramente la fisioterapia respiratoria più appropriata è quella che mobilizza il segreto a livello delle piccole vie, quindi la terapia o la pep therapy può aiutare, però anche qui un po' come per lo sport è molto importante una fisioterapia a cui il paziente aderisca adeguatamente, essendo un campo di patologie rare, sono dei gruppi di studio italiani e proprio recentemente ci troviamo in questo gruppo di studio su quella che la terapia ha maggior complianza o come favorire il fatto che il paziente aderisca regolarmente a questa fisioterapia che deve essere fatta più volte nella stessa giornata e occupa anche tempo nell'arco della giornata di un ragazzo o di un adolescente, quindi è importante scegliere la fisioterapia che mobilizzi le vie aeree nel punto in cui serve, in questo caso le piccole previere e quella per cui il paziente si senta più compliante, più adatto a farla ripetutamente, perché soltanto con una regolarità abbiamo, e costanza, abbiamo i risultati che cerchiamo. Bene, noi ci fermiamo un attimo per una piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo subito. Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City, il nuovo studio dentistico offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ottognato d'onzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama City Med, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e City Med, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovo in studio e siamo giunti al termine della trasmissione. Ringraziamo il dottor Volpini ed il dottor Romagnoli per essere stati qui con noi. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento. Il sovrappeso e l'obesità come fonte di problemi metabolici e cardiovascolari. Una bomba cardiometabolica da disinnescare. Sempre mercoledì alle ore 20.50 sul canale 13, in replica il giovedì alle ore 18 e la domenica mattina alle ore 11.50. Vi ricordo come sempre che potete telefonare con i giorni prima alla messa in onda della trasmissione per porre le vostre domande, chiamando il numero 071-7570-002 oppure inviare un'e-mail a canalesalute-tvrs.it. Vi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube e che tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook Canale Salute. Noi facciamo tantissimi auguri di Buon Natale, auguriamo a tutti voi di passare un sereno Natale e noi ci rivediamo la prossima settimana. Tanti auguri di Buon Natale a tutti e buone feste. Auguri Buon Natale. Grazie a tutti.